Gigi Randazzo, quella di stasera è stata un'Italia profondamente diversa, probabilmente c'è qualche rammarico. Sì, assolutamente, è stata un'Italia diversa rispetto a quella di ieri, siamo entrati in un atteggiamento diverso, in campo poi soprattutto il terzo set abbiamo trovato più continuità, sia in battuta, sia anche in ricezione. Peccato, c'è un po' di rammarico anche per il quarto set che abbiamo un po' lasciato andare, però diciamo che è abbastanza meglio rispetto a ieri. La sensazione però che si è avuta dal campo è che comunque si sono visti dei valori diversi, soprattutto tra di voi, nel senso meglio in battuta, meglio in ricezione, avete girato sicuramente meglio? Sì, assolutamente, poi una cosa in più abbiamo fatto sicuramente molto più squadra, ieri eravamo sia con un atteggiamento non buonissimo, più ognuno era un po' per i fatti loro. Adesso abbiamo fatto più squadra, abbiamo giocato meglio, siamo stati molto più condivini su quasi tutti gli aspetti. Ciao!